E diamo la parola al generale Giorgio Battisti che appunto parla di sfide perché a questo punto a queste altezze non si può che sfidare qualsiasi discorso e in particolare le sfide di un comandante. Abbiamo cominciato questa parte, questa mattinata sull'onda del cercare di vedere nonostante l'incomprensibile, nonostante ci manchino le categorie e dunque con umiltà si indichi dove si deve comunque agire e c'è qualcuno che invece ne può indicare ma è chiamato ad agire secondo i principi. È possibile, il primo principio di un soldato è sicuramente quello la guerra è giusta e che sia giusta o no non ci riguarda, abbiamo un dovere al quale dobbiamo rispondere. Quindi sicuramente è anche una sfida intervenire all'interno di questa tavolata in quanto comandante guidare, motivare e gestire situazioni complesse. Quindi tradurre la guerra in complessità può essere sicuramente una strategia che ci aiuta a comprendere la sua posizione, la sua situazione. Grazie professoressa. La sfida è tenervi svegli all'ora di pranzo, questa è la vera sfida. Poiché la guerra sia giusta o no, non aspetta ai militari dirlo. Aspetta ad altri dirlo. Detto questo spero di avere centrato il tema, si parla di terza guerra mondiale che sembra che sia già iniziata, una terza guerra mondiale che come vedete ricorre a strumenti non convenzionali. Adesso la cyber defense, il cyber spazio e così via è quello che comunque colpisce ogni nostro settore e non fa morti, morti veri però fa danni e fa danni molto più gravi e così via. Detto questo mi avverrò nella mia breve presentazione di alcuni firmati per stressare degli argomenti che intendo sviluppare in questa breve presentazione. Il problema di decidere e di reagire e di prendere le giuste decisioni sotto stress o in momento di crisi non riguarda solo i militari, può riguardare ciascuno di noi quando si trova anche ad un bivio dove deve decidere perché ne va della propria sicurezza, del proprio futuro. Chiaramente per i militari è un po' più difficile perché una decisione sbagliata può portare delle conseguenze molto gravi e molto negative per se stessi, soprattutto per gli uomini e per le donne che si comandano. Questo non capita solo in operazioni, non capita solo in combattimento. Se voi prendete il terremoto, i terremoti che purtroppo stanno colpendo il centro Italia, anche lì è stato necessario prendere decisioni, come si dice, come noi diciamo, sul tamburo e immediate per poter arrivare e portare soccorso a queste popolazioni. Come si reagisce al verificarsi di un'emergenza? Questo lo si può solo verificare quando viene l'emergenza. Nessuno di noi, parlo di noi militari, pur essendo preparato, portato a decidere, educato a decidere in situazioni di emergenza, non sa mai al 100% se quando si verifica quella crisi, è in grado di reagire al momento e nel modo opportuno oppure perdere la testa. Poi io ho avuto situazioni, adesso apro una parentesi, tanto per contestualizzare il mio intervento, nei miei anni di servizio militare ho avuto modo di servire in Somalia, nei Balcani e negli ultimi dieci anni più di quattro volte in Afghanistan, per lunghi periodi, anche oltre un anno. Situazioni che purtroppo ho dovuto sperimentare più di una volta. Quindi solo al momento dell'emergenza un comandante può avere certezza di sapere reagire bene e non farsi prendere dal panico e non farsi prendere da questa forma di fogo war, come viene chiamata nella quale non si decide e questo può portare rischio per il proprio personale ma anche per chi si deve difendere come rifugiato, la popolazione e così via. Quindi mai certezza si può ridurre questi fattori di incertenza con una buona selezione. Adesso mi sono permesso anche per attirare un po' l'attenzione. Questo è una griglia di classificazione degli ufficiali fatta da von Molke che era il capo di stato maggiore dell'esercito tedesco a cavallo poco prima della prima guerra mondiale. Come vedete ci sono quattro categorie, vengono suddivisi in quattro categorie di ufficiali per dire come la selezione sia importante. Shot team non significa sparaglia, significa licenziarlo. Quindi la cosa più importante è la selezione. Una selezione che serve per verificare sia l'aspetto fisico, l'aspetto della preparazione ma anche l'aspetto psicologico che è molto importante perché se uno alla prima difficoltà cede e non reagisce in modo opportuno indubbiamente quello non potrà mai essere un buon leader, un buon comandante. Quando parlo di comandante parlo anche comandante nel mondo civile. Ognuno di noi e ognuno di voi può essere comandante. È comandante nella famiglia quando comanda i figli oppure è comandante sul lavoro o è comandante in una caserma. La seconda cosa è l'attribuzione come riportato anche in questa slide di non giusto incarico. Mai attribuire come ha detto von Molke ma anche altri ad un pignolo un incarico di comando. Perché il pignolo che è bravissimo però rischia di perdersi nei dettagli. Quindi perde tempo nei dettagli, perde energie nei dettagli e non vede l'obiettivo finale. Non ha questa visione finale che è importante. Quindi come si diceva prima e come è riportato in questa slide l'ufficiale intelligente e un po' distaccato è quello che presenta gli aspetti più idoni per comandare e per reagire bene, speriamo, nei momenti di crisi. Perché ha anche la visione a lungo termine e anche la capacità di delegare. Passiamo ora all'educazione. l'educazione è l'aspetto più importante. È un'educazione che si basa su una formazione valoriale, una formazione valoriale nel inculcare e nel sviluppare valori di riferimento che fanno sì che una persona che fino a pochi anni prima, pochi mesi prima era uno studente, creda fermamente in quello che va. Anche gli attentatori e i suicidi hanno una formazione valoriale che noi possiamo considerare sbagliata perché sono i nostri opponenti, però anche loro hanno questa formazione. Si passa poi a una formazione individuale, a una formazione individuale che è la preparazione che si fa anche sui banchi di scuola, sulle accademie e poi all'addestramento pratico sul terreno. Cerco di andare veloce, poi dopo se qualcuno, se sono troppo tecnico poi sono anche disponibile a spiegare. L'addestramento, quindi l'insieme della formazione valoriale, della formazione individuale che è teorico-pratica e dell'addestramento che è la formazione pratica sul terreno, assieme, unite ad una selezione e dal proprio incarico, danno buona possibilità affinché un comandante in un momento di crisi reagisca bene. Io ho avuto diversi esempi di queste situazioni, ma mi ricordo di un ufficiale che tra l'altro era qua della provincia di Padova che in Afghanistan presidiava un incrocio e al momento che qualcuno, i nostri occhi diciamo così, hanno avvisato che stavano arrivando i talebani, ha perso la testa, si è buttato per terra, si è messo a piangere. Questo oltre a creare problemi per lui stesso può anche creare problemi per i suoi colleghi e per gli altri uomini, perché il terrore e la crisi poi si trasmette in modo facile al resto del personale. Quindi il comandante, anche se ha paura, non deve mai cercare di trasmettere questa sensazione, questo aspetto della propria preparazione. detto tutto questo, ma la cosa più importante è la motivazione. Se qualcuno segue e ha seguito in questi anni l'evoluzione di Daesh, dal 2014, dall'estate del 2014, quando ci siamo accorti che c'era questo califato che occupava parte della Siria e parte dell'Iraq, vi sarete accorti che a Ramadi, migliaia di soldati iracheni, comandanti in testa, hanno abbandonato le loro basi, lasciando quindi a Daesh migliaia di equipaggiamenti moderni appena ceduti dagli americani, solo perché non erano motivati a combattere per il loro paese. È come se i nostri partigiani fossero scappati dopo l'8 settembre del 1943. Quindi la motivazione è il collante comunque della selezione, dell'educazione e dell'addestramento, che è la cosa più importante. E la motivazione la si ottiene con i valori, con lo spirito di corpo e con la considerazione che un comandante deve avere agli occhi dei propri uomini e delle proprie donne. Perché se il comandante è il primo che scappa, è chiaro che la motivazione poi viene viene a me. Vorrei farvi vedere questo breve... Che c'è? Niente. Per favore consegna questo dispaccio al comando. Vuoi chiedermelo, vero? Chiedere cosa, signore? Vuoi sapere se sono veri le storie su di me? Non si sa mai con certe storie. Tutti dicono di averle sentite da altri che c'erano e quando chiedi a quelle persone ti dicono di averle sentite da altri. Niente di nuovo dunque. Se si tornasse indietro di duemila anni si sentirebbero due centurioni chiacchierare del fatto che Terzio ha impiccato alcuni prigionieri cartaginesi. Beh, magari ne parlerebbero perché non hanno mai sentito Terzio negarlo. Forse. O perché per Terzio era importante che i soldati pensassero che lui era il più cattivo di tutta la regione romana? Signore, a questi soldati non importa di certe storie. Sono felici di averla come comandante, di riavere un bravo comandante. Da quanto ho sentito ce l'hanno sempre avuto. Un comandante su cui potevano contare, che li ha guidati al Buajac e li ha tenuti insieme durante il bombardamento nel bosco. Che ogni giorno li sosteneva, li motivava e dava loro indicazioni. Tutte cose che fa un bravo comandante. Tu non hai idea di chi stia parlando, non è vero? No, signore. Cavolo di te, primo sergente. Da quando Winters è diventato comandante, sei tu il capo della compagnia Isi. Sappi che non resterai primo sergente a lungo, primo sergente. Signore? Winters ha presentato domanda alla commissione e Sink ha dato la sua approvazione. Avrai conferma ufficiale fra qualche giorno. Congratulazioni, tenente. Un altro aspetto molto importante, oltre a quello della preparazione dei comandanti, che ripeto, non devono essere per forza generali o colonnelli, possono essere anche caporali, perché oggi quei soldati che vedete a presidio di alcuni punti critici di Pado o che si muovono sono comandati da un caporale di 21 anni, che deve comunque decidere. È chiaro che non decide in situazioni particolarmente critiche, ma deve comunque decidere quando interviene per riportare un po' di tranquillità quando ci possono essere dei disordini, qualche furto, qualche rapina e così via. Un altro aspetto, dicevo, è la preparazione del personale dipendente. La preparazione e la consapevolezza che il personale dipendente è preparato per sostenere queste operazioni, l'addestramento. Tant'è vero che quando si deve, soprattutto si devono portare dei soldati all'estero in un qualsiasi paese, la preparazione dura almeno 6-7 mesi. È una preparazione che non è solo nel senso stretto militare per chi ha fatto ancora il servizio militare, ma è una preparazione che per il 50% almeno è rivolta alla conoscenza degli aspetti sociali, culturali di quel paese. Mi ricollego quanto è stato detto prima di me, perché conoscere quelle persone, conoscere le abitudini del paese in cui ci si deve schierare, si deve andare, è importantissimo per non fare figuracce, perché noi occidentali abbiamo la presunzione di essere migliori e più bravi degli altri, sempre. Confrontandoci e conoscendo e diventando amici con queste popolazioni si capisce che anche queste società che noi consideriamo un po' lontane, adesso qualcuno dice terzo mondo, quarto mondo, hanno un profondo spessore culturale almeno quanto il nostro, diverso almeno quanto il nostro. E questo richiede rispetto, rispetto per queste popolazioni. Ed è la cosa più importante questa, è la cosa più importante per il quale si riesce a entrare nella loro, a comunicare con loro, perché noi siamo sempre, anche se ci si reca in questi posti per aiutarli, dopo un po' è come l'ospite che dopo tre giorni puzza, oppure come la suocera che dopo qualche giorno è bene che torni a casa e si rischia di diventare invadenti e ingombranti. Passo ora a un altro filmato, ma solo per stigmatizzare come sia difficile decidere quando la decisione riguarda la vita dei propri uomini, oppure la vita, adesso in questo caso è un film che è uscito un paio d'anni fa di alcuni civili che poi possono fare la spia ai talebani. Marescià ha ucciso 20 maresi la settimana scorsa. 20. Lo lasciamo andare e altri 20 moriranno la settimana prossima, 40 quella dopo. Il nostro compito è fermare Schà. Che diritto hanno di dirci come dobbiamo fare il nostro lavoro? Secondo le regole di ingaggio non li possiamo toccare. Sì, lo so. E non mi importa. A me importa di te. Sì, mi importa di te. Mi importa di te. Non è un ragazzino, è un soldato. No, non possiamo farlo, Ax. Qui non si vota. Questo è quello che faremo. L'operazione è compromessa. Li lasciamo liberi e poi saliamo su quella cima. Quando siamo sulla cima tu cerchi di stabilire un contatto. Chiediamo di venirci a prendere e ce ne torniamo a casa. Ricevuto, signore. Ricevuto. Ricevuto. Per chi ha visto questo film, succede che questo ragazzo va a informare i talebani e tutta la squadra muore dopo. Però io ritengo che questa sia la forza delle società occidentali. È quello comunque di avere dei valori etici di rispetto che, salvo le dovute eccezioni, portano a rispettare anche la vita dell'avversario o del potenziale avversario. Che è un po', come dicevo prima, è la nostra forza. È un valore aggiunto, se posso dirlo, anche dei nostri soldati. Proseguendo, mi appresto a terminare con un altro filmato, lo stile di comando. Lo stile di comando è importantissimo, che come dicevo prima, è un insieme di esempio. L'esempio perché è un comandante, è quello che deve essere sempre il primo a fare quello che poi si pretende. La competenza, senza dimenticare l'esperienza. Perché oggi va di moda essere giovani, essere in tutti i posti in cui, mi riallaccio prima, essere giovani. Oggi è importante e si pensa che i giovani possano ricoprire qualsiasi posizione. E questo è vero, perché i giovani hanno questo spirito, questo sprint, questa visione sicuramente più moderna e anche più, si può dire, adeguata rispetto a qualcuno che è più maturo. Però talvolta ai giovani manca l'esperienza per poter poi valutare quello che si decide di fare e così via. Quindi importante è anche saper comunicare. Il Papa è un grandissimo comunicatore. Il Papa è un grandissimo comunicatore perché riesce con queste immagini isolate, in cui tocca il muro di Israele che divide la Palestina o che divide dal territorio di Israele. Oppure si dimostra solo quando entra ad Auschwitz. È un grande comunicatore che ha capito benissimo la potenza dei media. Che è una grande arma, che è una terribile arma di massa, oggi, se viene utilizzata per le proprie finalità. Oltre a questo è importante anche la fiducia in se stessi. Perché quando un comandante o un manager o un leader decide, è chiaro che valuta tutti i pro e tutti i contro. E poi decide lasciando sempre un margine di rischio. Perché la decisione al 100% di pro non ci sarà mai. Il leader, il manager e il comandante deve decidere conoscendo i rischi che gli rimangono e accettando questi rischi. Quindi è la cosa più importante questo qua. Fiducia quindi in se stessi, ma fiducia anche nei collaboratori. Come dicevo prima, se non si ha fiducia nei collaboratori, non si può andare da nessuna parte. Come dicevo prima, in the 7th Cavalry, abbiamo un capitano da l'Ukraine. All that is gone We're moving into the valley of the shadow of death Where you will watch the back of the man next to you As he will watch yours And you won't care what color he is Or by what name he calls God They say we're leaving home We're going to what home was always supposed to be So let us understand the situation We are going into battle Against a tough and determined enemy I can't promise you That I will bring you all home alive But this I swear Before you and before almighty God That when we go into battle I will be the first to set foot on the field And I will be the last to step off And I will leave no one behind Dead or alive We will all come home together So help me God And I will be the last to step off And I will be the last to step off And concludo Ho sintetizzato in questa slide Gli aspetti che ritengo Siano fondamentali Per ridurre quegli elementi Di incertezza E aumentare la resistenza In condizioni limite Che sono importantissime Come dicevo prima Non sono soluzioni preconfezionate La conferma solo Al momento della prova Una selezione Attribuzione del giusto incarico La preparazione Spirito di corpo E così via A questo 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 Caratteristiche che deve avere un comandante, come dicevo prima, un leader o anche un manager, lo spirito ed il carattere. Napoleone diceva che lui preferiva i generali con un forte spirito e con un forte carattere, che è la cosa più importante, perché riassume lo spirito ed il carattere, come dicevo prima, sono un collante per tutti questi aspetti che sono settoriali e funzionano solo se vengono uniti. Perché lo spirito è quello che dà la capacità e la sicurezza nel rendersi conto delle situazioni e di affrontarle nel modo giusto. Lo spirito è importantissimo. Il carattere è un po' la tendenza alla determinazione e alla costanza nella gira e questa è la cosa più importante. Alla fine di tutto poi un pizzico di fortuna che non va mai male, perché sempre Napoleone diceva che lui preferiva ai generali bravi i generali fortunati. Vi ringrazio e auguro a tutti buon appetito. Grazie al generale Giorgio Battisti.